Questo è lo scudo di Achille, la luna, il sole, le costellazioni. Lo scudo di Achille raccontato da Omero come simbolo in fondo di vicende successi nel Mediterraneo è ritrovato poi qualche millennio dopo in Germania. L'abbiamo preso a simbolo della mobilità, dell'umanità, della capacità di muoversi, di confrontarsi, di contaminarsi che l'umanità ha sempre avuto ed è il simbolo di Oriente Occidente. Il 4 luglio al Museo delle Miniere di Castelnuovo, in occasione delle celebrazioni del 4 luglio degli ecidi nazifascisti, il concerto di Barbara Eramo e Stefano Saletti.